Oggi siamo qua su un video speciale, lì c'è Mila come potete vedere, non so se la vedete, che tanto carina, vedi, qui c'è papà, qui c'è mamma, ciao, ciao, ok ovviamente prima di iniziare vi c'è, sapete che avete capito anche dal titolo, che stiamo facendo appunto una challenge per lo speciale 500 iscritti, anche se in realtà siamo già arrivati al 540 iscritti, sì che anche noi facciamo un po' tardi speciali, però intanto vediamo un po' come uscirà questa challenge, allora di precisi sono stata musiciana, innanzitutto abbiamo cambiato postazione, eh sì perché l'altro è più bello se è, proprio di mano, comodo, anche perché l'unica challenge che abbiamo fatto insieme, tutti quanti, è stata, Alessia non c'ha voglia? Comunque dicevo l'ultima, l'ultima volta, cioè non l'ultima scusate, l'unica volta che siamo sono stati tutti insieme, ma c'è il discritto, no? Della Rischia e il Gusto Challenge, cioè mamma mia che schifo, non dimenticherò mai! Gustosissime! Le mela, se lo ricorda, e... Se lo ricorda, fa un coca e... Ok, vai! Potete pensare ovviamente, perché non c'è niente! Allora, che cosa succede che non dobbiamo fare in questa challenge? Praticamente, qui abbiamo le cuffie, io ad esempio, io me le metterò, a lei si fa portare una canzone, c'è uno, un, tun, uns, uns, tun, uns, tun, uns, tun, uns, 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 e praticamente ad esempio, mamma mi farà una frase, mi farà una frase, mi farà una frase, mi farà una frase, in modo che poi, appunto, ci saranno tre frasi e le ri... Chi riesce a indovinarle di più, vince praticamente la challenge, quindi... iniziamo! vai! io dico la prima frase chi la vuole ascoltare? cioè chi la vuole non ascoltare? chi inizia inizi tu? vai! inizi tu? inizi tu? vai! vuoi la canzone di ieri? si si! facciamo fare pure un mela eh? vai mela di la frase mi raccomando! ok! iniziata? ah ok! vai! iniziamo! allora io dico una frase e lui la dovrà indovinare e già abbiamo detto! mela mangia una mela! l'hai detto? si! ha già detto? allora 5 tentativi facciamo questo esatto! mela mangia una mela! mela! non si senta che non serve non ci sentiamo! è un deserto eh! mangia! mangia! mela mangia! una! per? no! una! mela! una! mela! 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 che hai detto prima scusa? ti sei arrabbiata? vai! abbiamo già detto! ho detto! abbiamo già detto! ho detto! ok! vai! allora! mamma! mamma si è capito! mamma... mamma! no no! no! ahahahahahahah! allora! mamma è giusto! però prima ci sta! stasera mamma cucinerà una buonissima torta di mele. Ma Dani, te lo puoi scordare! Perché? Non ho capito. Stasera, stasera... Non riesco a capirti. Corti, fai le cose. Stasera, stasera... Di la frase. Stasera, mamma cucinerà una buonissima torta di mele. Mamma cucina... Stasera... Mamma cucina... Mamma cucina... Una buonissima torta di mele. Una mollica di pane. L'ultimo tentativo. E basta, ormai. Una buonissima torta di mele. Ah, ok! Mamma cucina una buonissima torta di mele. Ok, in realtà non l'avessi indovinato perché sarebbe stata stasera... È finta adesso la musica. In pratica sarebbe stata stasera, mamma cucinerà una buonissima torta di mele. Ah, eh, mamma. Però se non avevi capito niente... Vai, Alice, la tocca a te. Guarda. Guarda. A dire la frase a papà. La rimetti dietro. Ci stanno di big time. Me la dorsi. A chi tocca? No, a me non lo so fare. Dai! E sennò che stai a fare? Dai! Tu me lo senti. A chi tocca adesso? Ah, tocca. Ok. L'ultimo, vai. Alza. Non ci sta più il volume. Lo so, ho bloccato. Ah, vai. È iniziata. Eh? È iniziata. No, se l'è bloccata l'altra volta. Io non l'ho premuto niente. Ah, ok. Ci sta? Sì, ci sta la musica. Io mi faccio... Come faccio? Io mi faccio... Si è bloccata la musica. Oh. Mannaggia. Ok. E non è colpa mia. Io... Io. Lei. Ah, ok. Mi faccio di cocaina. Io faccio le fettine. No. No. Io... Scandisci bene. Mi faccio di cocaina. Facciamo. 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 Io mi faccio... Di cocaina. Di. Io mi faccio... Di. 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 Mettiamo un tempo. Un panino. Due. Di cocaina. Dai. Di cocaina. Eh, ora ho detto in tremina ne ho dette. Di cocaina. Basta, basta. Ma non ho capito. Io mi faccio di cocaina. Non so perché, ma ok. Allora, fate le frasi con tre parole, per favore. Con tre parole, troppo lunghe. E poi, è stato difficile, e a te no. Eh, cosa faccio prima io? Ma ci senti? Tu ci senti? Ci senti? Eh, l'hai capito, se non ci senti? Sì, l'hai capito, vabbè. Ci senti? Dammi. Dammi. Tre. Ci senti? No. Fai così. Parole. Parole. Sole. Sole. Hai capito? Luna. Cuore. Cuore. Amore. È una canzone. E poi, fai un'altra. Dai, dai, no, vabbè, è semplice, dai. Dai, dai. Questo divano è bianco. Eh? Eh. Questo divano è... Non capisco niente la parola. Eh, è fatto apposta. Questo divano è... Quando vado a... La li tocca a te. La dico io. Vai, vai, la dico io. Scrivi le parole. Ripeto. Questo. Quando? Questa... Una. No, allora fa le parti che fai così eh. Scrivete le imbarque eh. Vai. Questo. Questo. Divano. Divano. è bianco è bianco due su tre vai Alicia sbrigati vai la pizza non è che dite dai mi ha detto la pizza la pizza la birra la pizza la birra la pizza la pista pizza 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 ok la pizza margherita è buona è buona quindi tre su tre tre su tre ok vai a chi doca te vai mi ha detto il cappello scusa poi mi sono spettinata io ti senti il cavolo vai stringi stringi oh mio dio vai che devo fare mi la frase che deve fare ma la devo congiare bene l'hai iniziata no l'ha bloccata va ok si si vai questa musica questa musica non è brutta non è brutta come quelle che ti senti tu come quella che ti senti tu come quella che ti senti tu come quella che ti senti tu no e ripeti come quelle che ti senti tu come quelle che ti senti tu cioè io te lo faccio a guardare negli occhi vabbè dai ok ah alicia adesso le chiudo eh? le chiudo no no io le prendo la parte no dai la finestra la potenta potenta la vai la finestra la violenza la finestra vivenza finestra la finestra no la finestra finestra filtra 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 la luce filtra la luce brava tocca a me ok eh tocca a me eh tocca a me prima che finisci la canzone la la rivista la figlia la rivista è che è che è è la rivista è molto molto interessante interessante tocca a me e è isegnale ma va fammela asfettare asfettare dopo facciamo la dub vai 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 a chi tocca vai 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 l'ultimo dai la boule de neige la boule de neige e che è? non lo posso capire la che è? la boule de neige vabbè si è rotta 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 la che è boule de neige la boule de neige è la pallina quella che è ah ok vai la pallina di neige la pallina di neige questa si chiama la boule de neige bene? vai tocca a me mi avete dato una cosa interessante anche oggi raggiungiamo raggiungiamo raggiustiamo raggiungiamo raggiungiamo i i i trenta gli ottanta trentacinque trentacinque like gradi like like lavi mi piace mi piace scusa ah mi piace raggiungiamo i trentacinque like raggiungiamo i trentacinque like ok ok abbiamo finito aggiungiamo i trentacinque like per che cosa? per questo video per? questo video per? per i 500 iscritti per i 500 iscritti che adesso sono 542 oppure oppure me la me la me la ah aspetta se raggiungiamo c'ho il cane c'ho il gatto quello che fa così raggiungiamo i trentacinque mi piace per questo se volete un'altra challenge oh addirittura i trentacinque ah ok se volete un'altra challenge mi raccomando trentacinque like insieme a tutta la famiglia generalmente le idee ufff ok trentacinque like quindi per questo video eeeh se lo raggiungiamo facciamo ah dobbiamo fare ancora un'altra ancora non l'abbiamo finito dove è andato? aspettate allora questo pavimento è molto colorato questo pavimento è molto colorato allora visto che a un'ora hanno minato il pavimento vi racconto una piccola storiella di quando loro erano piccole 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 e ci giocavano col pavimento in pratica sceglievano il colore mi salpellavano, davano colore ancora lo fai molto è molto cilica lei dalla cucina fino in cameretta sua allora se scegli il giallo devi passare su tutte le mattonelline gialle quindi un bel po' più tempo un giorno faremo un tour della... ah si ok delle mattonelle gialle, nere, blu, verdi però lo sai eccetera 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 ok abbiamo finito allora? si e se invece fuochi e dura fuochi e dura fuochi e dura secondo me ci possiamo arrivare però non lo so però non capisco nulla vedete se si o no? si facciamo il tour della casa quindi lei dice buongiorno a tutti seguitela su instagram seguitela su facebook una pagina qua faccio per le fantasy craft così mi chiamo sia su facebook che vi lascio i link in descrizione che su instagram quindi seguitemi per la foto, poi video allora mi sono dimenticata di salutare Gloria che mi ha sponsorizzato io sono la mamma io sono il papà lei non si sa boh che mi ha sponsorizzato e in parte anche grazie a lei che sono riuscita a raggiungere i 500 iscritti grazie ciao ciao Gloria una zietta zietta Gloria ciao poi leggo i commenti eh io leggo i commenti quindi facciamo quella da bammila un un no resta calma ok che l'ha fatta vai allora io direi che possiamo fermarci con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti ok ok allora fate quello che dovete fare così ce ne andiamo ciao